L'informazione si può ancora controllare? Voglio dire, girano moltissime informazioni errate, distorte e anche divisive che riguardano la Chiesa. Molte. Si possono controllare o non più? Controllare è difficile. L'informazione è un campo libero. L'informazione è piena di fake news, come ormai si usa dire. Addirittura alcuni stati, non faccio i nomi, i quali hanno un gruppo che hanno solo per le fake news, per mandare le fake news e tutto il resto. È difficile controllarla, però questo raddoppia il nostro compito, il nostro impegno, per far sì che la verità, quella che per noi è la verità, venga fuori e dobbiamo impegnarci il doppio. Quindi oggi la comunicazione della Chiesa ha ancora più importanza di quella di un passato, in cui magari c'era un contesto culturale più vicino. Una rete di protezione. Esatto. Adesso non c'è più. Bisogna quindi raddoppiare. E davvero, io penso che la Chiesa debba fare uno sforzo per moltiplicare i giornalisti cattolici, non tanto per predicare, fare un proselitismo, ma per dire la verità, dire le cose come sono. Perché anche i valori fondamentali, lei pensa anche sulla famiglia, ormai non si sa più che cos'è la famiglia. Si parla di famiglia tradizionale, quella che è la famiglia, che per noi è la famiglia. Quindi abbiamo davvero bisogno che ci siano persone che abbiano il coraggio. Forse più che giornalisti cattolici, c'è bisogno di cattolici che diventano giornalisti. Esatto, questo è vero, questo è vero, sì. Però onestamente c'è bisogno di questo, perché la società è cambiata completamente.